da un quarto di secolo a questa parte il velodromo falancone è stato e sarà protagonista anche in futuro di numerose manifestazioni eventi legati al mondo dello sport e naturalmente in primo piano al mondo delle due ruote organizzazioni di eventi importanti sia san francesco al campo come fuori san francesco ricordiamo l'importante lavoro fatto riguardo le tappe del giro d'italia che sono state ospitate in canalese adesso a breve la pista di san francesco sarà protagonista di un altro evento molto importante ovvero ospiterà i campionati italiani di specialità dal 20 al 22 settembre una gara fondamentale naturalmente per la federazione perché assegnerà i titoli 2022 inoltre cosa non da poco porterà in canalese alcuni dei migliori atleti a livello nazionale e internazionale reduci appunto dalle gare di livello mondiale siamo qua con un giacomino martinetto che è presidente del velodromo a francone colonna portante una delle colonne portanti di questa associazione che mai punto diciamo prima da più di 25 anni lavora non solo sul territorio con te facciamo una chiacchierata e ti chiedo raccontaci un po questi momenti questi giorni di avvicinamento come state lavorando voi e che evento dobbiamo aspettarci grazie davide innanzitutto allora questi campionati italiani sono arrivati così un po improvvisamente in quanto luglio ci ha contattato dalla federazione ciclistica italiana nessuna candidatura per l'assegnazione appunto di questi campionati italiani che sono un po proprio deutici per preparare il campionato del mondo che si svolgerà ad ottobre in francia noi abbiamo partecipato a questa candidatura e abbiamo avuto la fortuna e la bravura per riuscire ad assagliarci per cui la macchina organizzativa si è subito messa in moto stiamo predisponendo un palincesto molto importante in quanto la federazione ci ha garantito tutta la nazionale italiana al completo mancherà solamente Filippo Ganna e Elisa Balsamo che tra l'altro sono due ragazzi che sono nati sull'Europa Francona e in quanto sono impegnati in Australia ai campionati del mondo per cui avremo maggiori interpreti italiani del ciclismo su pista ma anche dei plurimedagliati perché ci sarà Ria Bilbiani che è stato campione olimpico e attualmente campione del mondo e ci ha regalato di recente anche una gara straordinaria quindi un mese fa a Monaco al campione europeo ci sarà anche nei Barbieri pluricampionessa del mondo a parte nostra per cui tutto l'aventuraggio delle nazioni italiane dovremmo avere la presenza di parte del quartetto olimpico che ha vinto l'anno scorso negli olimpiadi per cui Francesco Lamont ha già dato la sua adesione aspettiamo l'adesione di Francesco Milan perché dipende un po' dagli impegni su strada che avrà in questi giorni poi tutto si sta organizzando al meglio tutto tutto è pronto sarà un grande grandissimo evento che darà sicuramente lustro al nostro nodo per cui mettiamo nel nostro curriculum un'altra bellissima manifestazione molto molto importante e sicuramente sarà anche un punto di riferimento per il canavese perché comunque mi ritengo ci saranno delle differite televisive su Varai e di conseguenza potrebbe essere anche per il territorio un buon veicolo di promozione tu giustamente hai detto purtroppo mancheranno due grandi interpreti che sono cresciuti anche loro su questa pista di San Francesco dimostrazione che San Francesco Velodromo Francone non è solo organizzazione di gare ma è anche capacità di far crescere i giovani capacità di dare la possibilità agli atleti che aspirano a quei grandi livelli appunto come europei mondiali e olimpiadi di prepararsi di crescere e diventare poi di campione sì diciamo che da 25 anni il Varai e Francon è il centro nazionale di avviamento alla pista per cui è l'unico centro piemontese tutti i ragazzi che fanno attività ciclistica periodicamente tutti gli anni frequentano questo centro questo centro è molto importante per la loro formazione in quanto è gestito da 2-3 tecnici federali laureati ISEF un meccanico per cui c'è una struttura molto importante dietro di formazione ma anche di preparazione quando la ragazza arriva si trova una struttura pronta si trova i mezzi pronti per cui le biciclette in questi anni abbiamo anche cercato di migliorare sempre il parco tecnologico delle biciclette perché comunque in 25 anni abbiamo risolvuto una trasformazione esponenziale del mezzo dell'aspetto tecnico in questi anni grazie a questo assiduo lavoro che forse non si vede così esternamente ma sono cresciute appunto su questo nostro impianto tantissimi ragazzi Clou è sicuramente Filippo Ganna pluricampione del mondo di inseguimento su strada pluricampione del mondo dell'inseguimento su pista protagonista campione olimpico non è poca cosa per cui credo che ha raggiunto veramente l'apice che si possa raggiungere in una carriera sportiva l'altro atletto di riferimento è Elisa Balsamo che la ricorderò sempre la sua prima gara del Vodromo-Fancone dopo due giri ha avuto un incidente accaduta si è rialzata e la gara dopo è riuscito a battere i maschietti per cui già il talento si è visto subito ma in questi anni veramente sono passati centinaia e centinaia di ragazzi che grazie allo sport si sono formati non solo nel mondo sportivo ma anche nel mondo professionale e questo credo che per un gestore per uno che tiene in piedi una struttura di questo genere c'era più grande soddisfazione e oggi sento ancora dei ragazzi che mi chiamano magari un esempio un ragazzo ha fatto una carriera da ingegnere attualmente in America e tutti gli anni per Pasqua e per Natale non si dimentica di chiamarlo quindi questa è una soddisfazione che deriva da una gestione seria sicuramente mirata e rivolta appunto negli anni una grande famiglia ma una grande famiglia che è professionale professionistica perché alla fine dei conti trattate quei professionisti e li trattate e li mettete in modo fate in modo che loro possano dare il meglio su una pista che vi è sempre migliorata avete fatto sempre dei lavori per cercare di mantenerla sempre ad alti livelli e che appunto in questi anni ricordiamo la seggione internazionale le prove di Coppa del Mondo al di là dei campionati regionali poi tra l'altro un'altra cosa che sottolineerei è il fatto che voi avete anche una grande attenzione per quello che è il mondo paralimpico perché voi siete stati potete essere un punto di riferimento anche per gli atleti con disabilità che trovano la possibilità di allenarsi o comunque di fare gare sulla vostra pista e questa è una cosa da poco. Io ritengo che il ciclismo va visto a 360 gradi il ragazzino che viene e approccia la pista non è detto che sia la sua specialità perché le due ruote spaziano dal mountain bike alla BMX al ciclismo su strada al ciclismo su pista, ormai le discipline a ciclocross, le discipline sono veramente tante e noi abbiamo sempre sposato un po' questa filosofia tant'è che abbiamo anche aperto legata di fianco all'attività praticamente su pista, scusate, un'attività giovanile e in questi anni anche lì sono passati veramente tanti ragazzi e oggi abbiamo dei ragazzi che sono in nazionale del mountain bike per cui vuol dire che la pista è una scuola di vita ed è propedeutica veramente apre il mondo ai ragazzini per poi andare nella specialità dove dimostrano più interesse, più talento, più passione, per cui lo spirito è appunto quello. L'importante va al fare dello sport dei ragazzi perché sicuramente è formativo, dopodiché chi ha le qualità, chi ha la passione, chi ha la volontà può emergere ma non espressamente su un tipo di attività ma nella multidisciplinità del ciclismo che è anche quella della filosofia della federazione ciclistica italiana e della nuova ciclistica internazionale. Torniamo a Bomba su questa tre giorni importante dove si assegneranno le maglie tricolari più o meno vogliamo spiegare, raccontare ai nostri ascoltatori che cosa alla fine come funzionerà, quali saranno più o meno gli orari a grandi linee e che cosa ci dobbiamo aspettare. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che saranno svolte tutte le specialità olimpiche, per cui dall'omnium, ormai la specialità olimpionica, alla velocità, alla gara di resistenza, per cui tutte le attività olimpiche sono presenti. Ad oggi abbiamo una cinquantina di iscritti ma le iscrizioni non sono ancora terminate. È riservata la categoria Under 23 Elite Professionisti per cui tutti gli interpreti saranno di elevata qualità perché comunque ormai sono già attretti formati. Attretti formati che sono professionisti o sono alle soglie del professionismo con un'esperienza comunque internazionale. Il programma prevede nel primo pomeriggio, in base al numero anche degli iscritti, le qualificazioni. I primi giorni ci saranno gli inseguimenti, la seconda giornata sarà più una giornata dedicata alla velocità, per cui alla classica velocità, lo sprint, il chilometro con partenza da termo, il kairin, mentre le ultime giornate si concluderanno in gran parte con le finali e speriamo di mettere insieme anche un quartetto dell'inseguimento, per cui ci saranno più quartetti. Andremo a interpretare un po' qual è stata la gara regina per noi, per le Olimpiadi e speriamo di avere un quartetto, un semiquartetto olimpico, ecco, sul nostro velodromo. Tutte le finale si svolgeranno dalle 19 alle 21.30, 22, per cui per il pubblico che anche lavora se viene il velodromo in quegli orari potrà assistere a tutte le finali di queste specialità olimpiche. All'interno del velodromo abbiamo preparato l'hospitality, per cui ci saranno dei punti ristoro, dei punti dove si può passare tranquillamente una serata diversa in compagnia di amici, bevendo una buona birra o vedendo veramente dello sport agonistico di alto livello. A questo punto non ci resta che invitare tutti ad assistere all'ennesimo grande evento, al velodromo Francone, anticipiamo brevemente, sarà solo uno degli eventi che da qua alla fine dell'anno il velodromo ospiterà, sarà protagonista perché appunto non vi accontentate di questo, ma avete anche in mente altre cose. Sì, ci sarà una manifestazione ancora internazionale entro fine anno, non sicuramente in pista, ma facciamo anticiparla, ci sarà il Tour International Ciclocross che è il 28 di dicembre. Anche questa è una gara internazionale di ciclocross, per cui ci sarà gran parte dei ciclocrossisti italiani. Le categorie ci sono tutti, dagli amatori a tutte le categorie giovanile per chiudere l'ultima gara la sera degli elite, per cui dei professionisti. Sarà la finale del Master Cross che è l'unico circuito internazionale di ciclocross, per cui sarà l'ultima gara e sarà appunto la finale San Francesco Alcampo. E in quell'occasione ci sarà anche la finale del campionato italiano squadra ciclocross, per cui verrà assegnato lo scudetto, chiamiamolo così in termini calcistici, alla società che avrà ottenuto più punti in tutte le prove del ciclocross internazionale. Per cui le manifestazioni non mancano, l'attività è sempre molto intensa, però iniziamo per gradi e vi aspetto tutti martedì, mercoledì, giovedì, 20-21, 22 settembre, al Genova Duomo Francone per serate di sport veramente interessanti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.